Grande successo a Ridotto del Verdi per la rassegna al dialogo creativo. Ospite speciale del quarto appuntamento è stata la scrittrice e fotografa Taya Selasi. Nata a Londra 35 anni fa da mamma nigeriana e padre ganese, Taya Selasi è cresciuta negli Stati Uniti, ha studiato a Yale e Oxford ed ha presentato il suo libro La bellezza delle cose fragili, che parla di una famiglia divisa tra il Ghana, gli Stati Uniti e l'Europa. Un romanzo d'esordio tradotto in 15 lingue, di grande intensità e valore letterario. Ho scelto di scrivere questo libro perché in un senso il libro ne ha scelto invece del contrario, ma sono contenta che questa famiglia, la famiglia Sa è arrivata nel mio cuore invece del cuore di un altro e mi sento sempre onorata di essere la loro creatrice. Era presente anche l'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. L'appuntamento di questa sera con la scrittrice Taya Selasi si chiude, si conclude quello che è il ciclo di incontri chiamato il dialogo creativo. L'intenzione è quello di portare avanti un discorso di dialogo e di integrazione tra popolazione immigrata e cittadini del nostro paese e che è stata una manifestazione particolarmente riuscita e questa sera abbiamo il piacere con noi di avere Taya Selasi che ha scritto un bellissimo libro e che ha coniato un termine, proprio sintetizza anche la nostra rassegna, quello di Afropolitan, cioè che parla dello sradicamento delle persone che si introno nella realtà metropolitana dell'Occidente. Grazie.